Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Sulla 12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. Spostandoci sulla FIPILI in direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Infine per i treni, per l'attivazione del sistema di controllo della linea, la circolazione ferroviaria tra Marradi e FENZ è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie per la visione!